Gentili telespettatori, buona giornata. Continua il fenomeno delle grandi dimissioni. In nove mesi, oltre un milione e mezzo hanno lasciato il lavoro. Attenzione che non lasciano il lavoro per stare sul divano con il reddito, ma lasciano il lavoro per cercarne uno migliore. Migliore sotto l'aspetto economico, sotto l'aspetto dell'ambiente, l'ambiente dove si lavora, l'orario, la distanza. Vengono valutati tanti fattori perché dopo la pandemia, con lo stare a casa forzato, le persone hanno riflettuto. La pausa ha fatto riflettere perché lavorare, lavorare, lavorare non hai neanche il tempo di riflettere su dove ti trovi, cosa stai facendo e allora lavori come un pazzo dalla mattina alla sera, mangi, dormi, torni al lavoro, mangi, dormi, torni al lavoro e non hai tempo di riflettere sulle tue condizioni di lavoro. Quando poi c'è una pausa forzata ti rendi conto e dici ma che cosa sto facendo, cerco qualcosa di meglio. Anche perché poi con l'inflazione, la crisi energetica, gli stipendi non sono più sufficienti, già erano sotto la media europea, già gli stipendi sono in decrescita infelice, non felice ma in decrescita infelice da anni, le persone cercano un lavoro con una retribuzione migliore. Voi sapete che il 25% un italiano su quattro lavora per meno di mille euro netti al mese che tradotto in parole semplici si chiama sfruttamento del lavoro, sfruttamento delle persone, non è lavoro quello, è sfruttamento e allora cercano le persone una via d'uscita. 1,66 milioni le dimissioni dal lavoro registrate in Italia nei primi nove mesi del 2022, in aumento rispetto al 2021 quando erano state 1,36 milioni, un aumento del 22%. E così sono le tabelle trimestrali che comunica il Ministero del Lavoro. Ufficialmente tra le cause di queste dimissioni volontarie sono i contratti a termine, la quota più alta. Risalgono anche i licenziamenti, tra gennaio e settembre sono stati circa 557.000 contro i 379.000 del periodo precedente con un aumento del 47% rispetto ad un periodo in cui era però in vigore il blocco dei licenziamenti. Il blocco dei licenziamenti te la fanno pagare dopo, ovviamente. Per chi è stato e chi ha lavorato, chi lavora in un'azienda privata sa perfettamente che se te la vogliono far pagare prima o poi il conto arriva. Quindi ci sono poi le cause invece principali che sono lo stipendio migliore e una vita migliore. Sono le ragioni principali da una ricerca dell'osservatorio HR Innovation pubblicata nel maggio scorso. Chi cambia lavoro lo fa principalmente per creare beneficio economico maggiore, più 46%. L'opportunità di carriera è il 35%, sta al secondo posto, mentre il 24% abbandona il proprio lavoro la ricerca di una maggiore salute fisica o mentale o per inseguire le proprie passioni personali, 18%. Questa percentuale vale anche per chi in modo particolare dopo l'esperienza della pandemia pretende di avere una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro. Poi torni in azienda, ti dicono la flessibilità col cavolo, quello è l'orario di lavoro e se arrivi tardi ti tolgo anche. Quindi passi dallo stare a casa a lavorare col computer come dove e quando vuoi al ritorno al passato, devi timbrare alle 8, se arrivi alle 8.05 ti tolgo 15 minuti. Trovare un equilibrio migliore tra vita personale e vita lavorativa. Si lavora per vivere, non si vive per lavorare, non è la stessa cosa. Secondo IDP le grandi dimissioni sono anche il frutto del divario economico, sociale e culturale che si è creato tra la generazione dei baby boomer, attualmente al vertice della stragrande maggioranza delle aziende, e i millennial e la generazione Z, giovani che rivendicano una maggiore attenzione al benessere personale e al giusto equilibrio tra tempo dedicato al lavoro e la vita privata. Beh, non è proprio il paese dove trovare il giusto equilibrio tra tempo dedicato al lavoro e la vita personale. No. Per com'è l'Italia, per la sua cultura lavorativa, per com'è la società, se il ragazzo di vent'anni oggi dice, ah ma io al lavoro devo avere il giusto equilibrio tra il tempo dedicato al lavoro e la vita personale, ti dicono, andare a lavorare, quella è la porta, fuori, ecco questo è quello che ti dicono quando tu gli dici scusi ma, e dov'è il giusto equilibrio? Il giusto equilibrio è uscire dalla porta così hai tutto il tempo che vuoi in maniera equilibratissima. Bene, diciamo che ci sono paesi dove diminuiscono l'orario di lavoro, dove le aziende stanno attente alla produttività, incrementare la produttività cercando di rendere contento il lavoratore, magari mi lavori un giorno in meno alla settimana ma il lavoro che mi facevi prima me lo fai in meno tempo e magari mi fai anche qualcosa in più, cioè io ti tolgo un giorno di lavoro, magari lavori dal lunedì al giovedì, il venerdì stai a casa, ma dal lunedì al giovedì fai tutto e qualcosina in più, di come prima che lavoravi anche il venerdì e magari stavi lì a guardare per aria, perché è ovvio che il lavoro che fai in un'azienda dal lunedì al venerdì lo puoi fare anche dal lunedì al mercoledì, ve lo dico per esperienza personale, la maggior parte del tempo che passi in un'azienda, lì seduto in ufficio stai facendo passare il tempo, perché se tu dovessi fare realmente quello che c'è da fare, l'orario sarebbe molto diverso, io quante volte dovevo tornare in ufficio a star lì, a guardare per aria facendo finta di muovere i fogli, guardate, col proprietario che passava alle sei e mezza di sera facendo finta di non guardare ma con la coda dell'occhio per vedere chi c'era ancora lì, perché se tu alle sei e mezza di venerdì sei ancora in ufficio, sei un grande lavoratore, se invece vai via alle cinque come tutti gli altri sei un fannullone, invece non è così, non si misura il lavoro su quante ore stai lì, ma è su quello che fai, non su quante ore. Però la mentalità di certi imprenditori rimane quella, io ti pago e stai lì, e se ti pago più degli altri a forfè devi stare lì più ore degli altri. Ecco, quindi il giovane che trova il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata e nella società attuale non funziona. Arrivederci a tutti e grazie.